Il messaggio che portiamo anche senza fascia allo sport è importante, ci fa crescere, ci ha fatto crescere, ha fatto superare perlomeno i miei grandi ostacoli e speriamo che possa essere di aiuto a tante persone, sia per diventare un campione come lo siamo noi, ma sia per diventare grandi persone perché il mondo ha bisogno di grandi persone, quindi vi aspettiamo. L'università di me pare non sia aperta e diversamente abili, questo è un po' un limite secondo me. Al momento è un po' un limite, però se oggi c'è in macerasuolo Vincenzo Boni, Gianluca Tanasio è perché si vuole aprire la porta alla diversità, perché gli atleti sono sempre atleti, siamo quelli che si svegliano la mattina, vanno a nuotare, corrono, fanno di tutto per seguire il sogno olimpico, la fiamma è una, lo sport è unico, senza barriere, quindi le prossime dopo Napoli sarà aperta sicuramente e speriamo ai disabili. Grazie.